...di gennaio per fare una foto così bellina. Allora, le vedete tutti? Sì, sì. Allora, adesso che siamo qui, facciamo una cosa. Tanto, facciamo una cosa. Cantiamo tanti auguri a te, perché oggi è il compleanno di Cecilia. Grazie a Cecilia. Ma come no? Ma come no? Vieni? Allora, siamo pronti per... Allora, siamo pronti per...